Quando viaggio, anche per piacere, non faccio più visite ai musei, ma faccio visite agli alberghi per capire che cosa offrono altri. Per il strutturale alberghiero il recruiting e lo staff è fondamentale perché è quello che può fare la fortuna o meno di un albergo. Quando posso faccio sempre sport alla mattina, che mi dà energia per iniziare la giornata, quindi tennis o palestra, almeno 3-4 volte a settimana. Sempre presto, in modo poi da iniziare la giornata lavorativa, poi alla solita ora. Come mai non il padre? Perché sono un purista del tennis. Il padre è lo sport per i non-tennisti. Sono Guido Polito, amministratore delegato di Baglione Terza e Resorts, società fondata da mio papà oltre 50 anni fa. Non so se hai fatto caso, andando in spiaggia, se poi guardi dietro verso il resort, il resort quasi non si vede. È costruito molto bene. La routine della mattina sveglia presto, intorno alle 7-4, un po' di sport, colazione abbastanza leggera perché non sono un grande mangiatore la mattina e poi inizio la giornata. Sono nato dentro gli alberghi e quindi è stato abbastanza naturale. La fortuna di avere un business di famiglia è molto divertente, quindi mio padre mi ha sempre parlato del suo lavoro, spesso ho girato con loro, quindi è stato naturale. Il mio viaggio, anche per piacere, purtroppo non faccio più visite ai musei, ma faccio visite agli alberghi per capire che cosa offrono altri, quali esperienze offrono altri 5 stelle, cosa posso imparare da queste. Ma non mi ci ne vai. Io sono sopravvissuto nei miei anni di università e di Londra da solo, ma con cose abbastanza basiche. Andiamo a andare a vedere l'orto che è carino. Allora, in questo momento abbiamo le melanzane là, ci sono i pomodori che sono in crescita. Quindi adesso le stiamo utilizzando per fare i diversi piatti della stagione. Abbiamo le zucchine in fondo. Per il strato alberghiero il recruiting e lo staff è fondamentale perché è la vera anima che fa la differenza sul cliente, quindi quello che può fare la fortuna o meno di un albergo. Quando sono qua, almeno una volta incontro lo chef per vedere la programmazione delle varie serate, capire con lui come sta andando. Mi confronto un po' sul tipo di menu, l'organizzazione che sta programmando. Vanno a marciare con l'Urgione e il pacchero, vai. Nemmeno fai il pacchino senza passione in questo lavoro. È un lavoro di passione. Infatti oramai anche nel recruiting del personale guardiamo solo la parte caratteriale. La tecnica la puoi insegnare, la passione non la insegni. La voglia di fare, di soddisfare il cliente, di sorridere in modo genuino, non perché lo diciamo noi che devi sorridere al cliente. Gli ultimi due anni sono stati molto difficili per una serie di motivi, quindi una grande uscita dal settore da parte di tante persone. Il reddito di cittadinanza che sicuramente spinge le persone a cercare le soluzioni più comode, a differenza di prima. Sono momenti complessi che stiamo cercando di superare. Abbiamo sviluppato un programma di welfare veramente avanzato per i nostri dipendenti. Facciamo tanta formazione. Stiamo investendo veramente tanto per poter fare la differenza ed essere un datore di lavoro attraente per le migliori risorse sul mercato. Federico, vediamo la suite dell'ospite che sta per arrivare. Avete fatto la Manitis nuova, non abbiamo più la frutta? No, in realtà la manteniamo, solo che essendo ospiti abituali, loro l'anno scorso ci hanno comunicato che gli sono piaciuti molti dolcetti salvi a colazione, quindi abbiamo voluto riproporglieli come benvenuto o giusto aperto. Ma è carina, così almeno personalizziamo un po' il loro arrivo. Ormai le camere belle, ben curate, quando l'ospite arriva lo danno per scontato quando viaggiano in determinati livelli di albergo, quindi invece riuscire a dare questo livello di personalizzazione, quindi ricordandosi da un anno all'altro le preferenze del cliente e poi ovviamente seguirlo durante il loro soggiorno è quello che fa la differenza. La nostra decisione di venire a Puntaldia e non a Porto Cervo, in Costa Smeralda, era proprio per la volontà di dare un lusso alternativo ai clienti che viaggiano in Sardegna, dove fino ad oggi se volevano un albergo di lusso dovevano stare in Costa Smeralda. Noi intendiamo il lusso in modo più rilassato. Per me era importante fare un luogo ben curato, elegante, ma allo stesso tempo corretto per questo paesaggio, non volevo un lusso pesante. Il mio aperitivo durante le giornate di lavoro è invece uno dei momenti di relax, sia quando sono in giro per gli alberghi, sia a casa, appena arrivo a casa, con lo spritz o una birra, la piscina di spritz, chiudono una parte della giornata e inizio poi quella di relax, serare a casa con la famiglia. Da quando ho avuto l'idea di sviluppare la parte del resort, sono finite le vacanze estive. Giriamo continuamente i vari resort durante l'estate e sicuramente sono posti stupendi dove lavorare, quindi non ci si può lamentare in nessun modo. Però non sei mai completamente rilassato. al ristorante, quando mangiamo, continuo a guardare, a sentire, a ascoltare il commento dei clienti, però fa parte del lavoro, ripeto, poi molto meglio questo tipo di lavoro che altri, quindi secondo me è anche il segreto di far bene il lavoro. Il proprio lavoro è poi questo che è fatto di tanti piccoli dettagli e magari trascurabili singolarmente, poi se li metti tutti insieme all'interno di una giornata fanno una differenza per i clienti. Alla prossima!